Ma quante coppie si sono conosciute proprio nella casa del grande fratello VIP e quante per fortuna sono ancora assieme? Una di queste è Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, la bellissima napoletana già conosciuta per l'eredità con Fabio Insinna e che sogna di diventare attrice. Gianmaria invece è conosciuto come seduttore per i suoi mi flirt, uno con Belen Rodriguez e Soleil Sorge, la bellissima coppia vive il loro amore ritornando spesso nella loro città preferita, Capri, dove Gianmaria ha festeggiato il suo compleanno con uno dei suoi migliori amici Aldo Montano, uno dei moschettieri del grande fratello VIP, ora si godono il sole di Ischia!